Ciao a tutti ragazzi e sono qui per l'apertura della casella successiva Allora, ieri abbiamo aperto, abbiamo già fino ad ora aperto 10 caselle Ieri abbiamo aperto la numero 10 e oggi apriamo la casella numero 11 Che sta a fianco alla 14 e a fianco alla 2 Che sta sotto la 19 e sta sopra la 19 e sotto la 4 Sta sulla destra, sta ecco qui Ecco qua, apriamo la casella numero 11 Ed ecco a voi la quarta minifigure di questo calendario dell'avvento L'altro richiede è uscita dalla terza L'altra volta è uscita dalla terza figure La terza minifigure, questa è la quarta, la quarta minifigure La quarta minifigure di questo calendario dell'avvento natalizio E ecco la quarta minifigure di questo calendario dell'avvento E ecco qua Giorno numero 11 si tratta di questo videogamer Giorno numero 11 si tratta di questo ragazzino che gioca al videogioco Ecco qui a voi un bel joystick che ha un bel joystick a mano Eccolo qui Che gioca praticamente con questo joystick qua Eccolo qui Ha le cuffie Eccolo qui, guardate quando è bello Eccolo qui Bene, questo è tutto Noi ci vediamo domani Con la prestituzione della casella numero 12 Ciao a tutti A domani